Era nell'area ormai da giorni e oggi arriva la dichiarazione ufficiale. L'Udc si chiama ufficialmente fuori dalla coalizione di centrodestra. La certezza è arrivata ieri in tarda serata mentre i membri del gruppo di opposizione si riunivano per fare il punto della situazione sulla prossima discussione del ricorso e sugli effetti della presentazione dell'esposto in procura a firma di Giuseppe Spata. A quel tavolo l'Udc non sarebbe stato nemmeno invitato a suggello della frattura che era già emersa in questi giorni. E a confermare la rottura definitiva è proprio il consigliere comunale Salvatore Incardona, segretario cittadino dei centristi. Confermo il fatto che purtroppo Gela vive questa pagina nera per la politica perché gli interessi della città non bisogna soltanto sventolarli in campagna elettorale o dagli scranni del consiglio comunale ma bisogna metterli in pratica. Gela sta vivendo l'ennesima pagina nera della politica. L'Udc in un percorso di coerenza con quello che è il mandato affidato dai cittadini continuerà sì un'opposizione, un'opposizione come l'abbiamo sempre fatta costruttiva, tesa a tutelare gli interessi della città ma non riconosce e quindi parlo anche da segretario cittadino soprattutto al momento che qualcuno ha voluto far passare il messaggio che al vertice erano presenti esponenti dell'Udc. Parlo da segretario cittadino del mio partito e dico che l'Udc si discossa da quelle che sono le dichiarazioni della coalizione. L'Udc non era presente all'interno del vertice di maggioranza e di opposizione di ieri sera. Prendiamo le distanze da Spata come leader dell'opposizione ma soprattutto da tutta l'opposizione. Anche in consiglio comunale dunque i centristi prenderanno ufficialmente le distanze dalla coalizione pur rimanendo all'opposizione. Devo registrare comunque che non c'è mai stato un vero e proprio dialogo con quelli che sono, che è la coalizione perché ripeto Spata non è stato in grado di tenere unita la coalizione o meglio comunque parti di coloro che lo hanno sostenuto fermamente non è stato in grado, non gli ho riconosciuto e non gli riconosco il ruolo di leader perché comunque il ruolo di leader passate le elezioni si conquista sul campo e non grazie ai voti. Una domanda che va all'uomo Salvatore Incardona e non al consigliere Salvatore Incardona. Quanto male ti ha fatto umanamente questa vicenda? Avrei preferito non parlare di questo e non intervenire anche perché c'è qualcuno che dice che l'uomo Salvatore Incardona strumentalizzi la figura del proprio padre per andare sui giornali. Così non è perché è una piaga, ripeto, una brutta pagina che lascia un segno anche alla città di Gela. Chi ha conosciuto mio padre sa, ancora oggi io ricevo giornalmente attestati di stima, chi ha conosciuto mio padre sa quanto lui era legato al comune di Gela, quanto lui era legato al suo lavoro e quanto lui era legato a tutti i cittadini gelesi. Ripeto, mettere in dubbio l'operato di un funzionario che, se è sempre distinto e contraddistinto per il suo operato, mi pare veramente cosa da piccolini.